Siamo oggi a Rapallo in provincia di Genova in compagnia della dottoressa Ilaria della Casa, ginecologa. La dottoressa della Casa, nonostante la giovane età, ha una vasta esperienza. Ha seguito la scuola di specialità in ginecologia e ostetricia all'ospedale San Martino di Genova e all'ospedale cantonale di Gineva e per otto anni è stata dirigente medico all'ospedale di Lavagna. Adesso segue i suoi pazienti qui nello studio di Rapallo. Dottoressa della Casa, ormai la visita ginecologica è un po' entrata nella cultura medica delle donne, ma come può diventare un'abitudine da prendere anche annualmente proprio in vista di una prevenzione più sicura per il benessere delle donne? Allora, le donne devono considerare che il ginecologo è il medico privilegiato per la loro salute perché se loro si fanno vedere una volta all'anno dal ginecologo si potranno affrontare i problemi anche prima che i problemi diventino tali e quindi non soltanto nella sfera esclusivamente ginecologica ma proprio nella totalità della prevenzione per migliorare la qualità di vita delle donne stesse, quindi proprio nell'ottica di migliorarsi. È una questione anche di approccio da parte del medico però. Eh sì, è fondamentale affinché la visita ginecologica che di per sé non è proprio un qualcosa di estremamente piacevole diventi un momento di confronto con uno specialista che sa di che cosa stai parlando e che affronta gli argomenti anche in profondità, quindi non soltanto il bollino della salute ma si occupi della donna nel suo completo e quindi che ci sia un atteggiamento insomma di accoglienza. Ecco, quindi anche il saper ascoltare e andare in profondità. Ah, è fondamentale, se non si fanno le domande non si hanno le risposte, quindi le donne da parte loro dovrebbero avere meno tabù e meno vergogne e dire tutto e dall'altra parte noi ginecologi dovremmo essere in grado di fare la domanda ma di ascoltare la risposta. A volte questo atteggiamento serve anche a capire quello che non viene detto dalle pazienti. Esattamente, esattamente, perché bisogna essere in grado di capire se c'è un problema e avere il coraggio, il ginecologo, di chiederlo e la paziente di rispondere e di esporlo, perché a volte c'è vergogna e c'è timidezza ma bisogna ricordarsi che dal ginecologo si è per definizione nudi e bisogna cercare di esserlo completamente anche dalle paure e dai propri pregiudizi poi. Possiamo fare qualche esempio? Ah, esempi ce ne sarebbero un sacco. Uno fra tutti che mi viene in mente è ad esempio problemi a livello della vita sessuale legati alla secchezza vaginale, all'atrofia, che può essere un problema tanto delle donne giovanissime quanto delle donne in menopausa, in postmenopausa, delle donne con tumore al seno o problemi, paure magari relativamente a una parte del corpo, un seno asimmetrico rispetto all'altro, più grosso e l'altro più piccolo e che quindi ha sempre posto ansie o sulla estetica dei genitali che magari si ritengono non essere normali. Ecco, il dirlo a volte migliora la qualità di queste donne perché gli si spiega se sia un problema reale o immaginario. Ecco, parlando appunto di cose imbarazzanti, a volte parlare del proprio seno anche crea imbarazzo, invece non deve essere così. Non deve essere così, bisogna cercare di prendere confidenza col proprio seno facendo quella che è l'autopalpazione, ma non necessariamente da manuale perché siamo tutte sempre donne di corsa, donne in fuga, ma la doccia ce la facciamo, si spera tutte quante e quindi quando siamo sotto la doccia col bagno schiuma ci diamo la crema sul corpo, passare le mani con un po' più di attenzione sul proprio seno, visto che lo abbiamo a disposizione tutti i giorni e il ginecologo solo una volta all'anno, è già un'ottima tecnica di prevenzione. Ecco, puoi venire però da un ginecologo per una diagnosi. Eh sì, perché iniziare a palparsi il seno dopo una visita ginecologica che con la visita al seno o un'ecografia mammaria ti dica che è tutto in ordine, fa sì che se tu cominci da lì la palpazione del seno sotto la doccia col la crema tu sappia che quella è la tua normale, morfologia del seno e non è nulla, quelle palline che senti sono le palline normali che devi sentire sempre. Quindi visita e altro? Visita e ascolto e domande e curiosità e quelle cose che ci si vergogna a dire e bisogna farsi passare la vergogna. Questo è un consiglio per tutte le donne? Assolutamente. Benissimo, noi ringraziamo la dottoressa in area della casa. Grazie mille. Grazie mille.